Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un splendido modo locale arredato a Desio. Ingresso su vano open space suddiviso per zone, zona soggiorno, zona pranzo, cucina, dove troviamo anche condizionatore e lucernario. Questo vano ha poi un'uscita su un terrazzino. Disimpegno che conduce al bagno dove troviamo la doccia, i sanitari e la lavatrice già inclusa. Particolare terrazzino dotato di ripostiglio. Tenda solare elettrica e un particolarissimo oblò con la vista sulla meravigliosa piazza Don Giussani. Per tutti i dettagli su questo immobile puoi visitare il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza.